I amici che mi iscrivono, mi iscrivono... Eh, diciamo il tavolo, e allora, dai, facciamo qualche cosa. Volevo salutare questa nemica che lei più usa mai il bagno di casa, non so sempre quello che c'è in giro per le città. Chi è? Jesse Pubblici. Ciao, Jesse! Mi raccomando! Vado il bagno a casa! Volevo salutare anche te, però lì, vieni a tuo volare, che almeno ti fa una risata, perché c'è questa amica, Ico, le svedese, che lei è sempre arrabbiata. Chi è? Inga volata. Ciao, Inga! E' un bagno a questa amica, che è inglese, che abita ormai da molti anni in Italia e si occupa di ristorazione. Chi è? E' cutting. E poi il mio ultimo, almeno l'ultimo, l'ultimo, è un amico che mi ha aiutato, perché lui è veramente molto riscoso, però poi si sveglia al mattino e non si ricorda niente, proprio ha una forma di apresia strana. E il suo nome? Achille Odater. Saludici! Vi mordete! Vi mordete! Vi mordete! Se vuoi ridere con noi tu puoi, a Colorado c'è bella gente, ridere non costa niente!